Esistono due particolari categorie di utenti, che possono accedere all'area riservata del sito. Utenti Business Pass, definiti direttamente sul gestionale. E utenti non Business Pass, codificati e gestiti all'interno del wizard di PassWeb. All'interno di queste categorie, posso individuare tre diverse tipologie di utenti. Utenti di tipo commercialista, di tipo dipendente, e utenti di tipo azienda. Per gli utenti Business Pass, posso importare direttamente dal gestionale, una gerarchia strutturata su tre livelli. Al livello più alto, vengono collocati gli utenti commercialisti. Essendo in cima alla struttura gerarchica, avranno la possibilità di comunicare verso il basso, con tutti gli altri utenti dipendenti e le aziende. Gli utenti di tipo dipendente, sono amministratori di secondo livello. Possono comunicare verso l'alto con gli utenti commercialista, e verso il basso con gli utenti di tipo azienda. La principale differenza, è che il dipendente può comunicare solo con le aziende che è abilitato a gestire. Il sito, deve conoscere tra i gruppi utenti creati sul gestionale, quale sia il gruppo che ha i privilegi di utenti di tipo commercialista. Possiamo quindi capire meglio il significato del parametro gruppo Business Pass, che abbiamo indicato nei parametri di configurazione. La creazione di questo gruppo è obbligatoria ai fini dell'integrazione. All'interno di questo gruppo verrà collocato anche l'utente amministratore di Business Pass, indicato nella stessa pagina di configurazione. Gli utenti appartenenti agli altri gruppi, accederanno all'area riservata con le caratteristiche di utenti di tipo dipendente. Se questi utenti hanno delle limitazioni a livello di aziende gestibili su Business Pass, queste limitazioni verranno riportate anche sul sito. Per quel che riguarda infine gli utenti di tipo azienda, sono di fatto tutte le aziende dell'installazione Business Pass. Sarà poi il commercialista a decidere, attraverso un apposito parametro, quale azienda esportare e poter gestire anche all'interno del sito. Gli utenti di tipo azienda, verranno automaticamente collocati a livello più basso. Potranno comunicare unicamente verso l'alto con gli utenti abilitati di tipo dipendente. Ed ovviamente con tutti gli utenti di tipo commercialista. Selezionando il parametro di configurazione, Crea gerarchia utenti Business Pass, verrà creata automaticamente la gerarchia degli utenti su tre livelli. Se non viene selezionato questo parametro, verranno comunque prelevati gli utenti codificati, ma non verranno creati gruppi preconfigurati. Tutto andrà gestito in maniera manuale. Tutto andrà gestito in maniera manuale.